bravo allora ragazzi 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 sono qui in mezzo a voi buonasera benvenuti buonasera 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 che belle maschere questa sera ragazzi allora se non vati bravi di meno buon bastone va bene facciamo lui allora cerco mi abbassi poco poco il volume mi abbassi poco poco il volume grazie così ragazzi se riuscite a vedere questo bastone sono io se riuscite a vedere due luci sono Jay e l'amico qui che stanno facendo il video allora ragazzi risemmi dobbiamo fare velocemente velocemente due ali di polna sul lato sinistro e sul lato destro grazie ragazzi allora bravi così un gruppo delle mie di qua allora guardate no attenzione così no così no sensore eh sensore è che è fericoloso allora buonasera buonasera benvenuti al giù non fare così non fare così altrimenti questo poi sai hai capito allora ragazzi ah e vabbè dopo facciamo questo giù allora ragazzi dobbiamo per me un attimo per me un attimo dobbiamo fermarci qui fermarci qui dovete 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 girarvi verso quel muro lì perché questa sera ve l'ho detto prima la sorpresa la prima sorpresa della serata è che vedremo un film proiettato buoni state buoni state buoni allora mettiamo tutto fuori qui perché non potete andare oltre questa linea anche laggiù perfetto allargiamoci ragazzi allargiamoci gentilmente gentilmente anche qui dobbiamo spostarci o potete anche stare qui però non volete mica qui non volete mica questa linea dei due pilastri ok se vi date una mano grazie ragazzi stiamo andiamo preparando una sorpresa per voi ma abbiamo bisogno della nostra collaborazione quindi noi oltre passate questa questo spazio e guarda dopo 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 allora ragazzi un pochettino di spazio dovete virtualmente fermarvi su questa linea bravi così cieco va bene anche senza musica così mi sentono meglio dovete andare ancora più giù allora collaboriamo perché abbiamo preparato una sorpresa come nello stile Joyce voi sapete che noi ce ne inventiamo una più del diavolo e anche questa sera giustamente un altro concorso questa sera da quale mondo proviene ma soprattutto da quale tempo allora ragazzi bravi non oltrepassate questa linea ok virtuale facciamo spazio anche qua in questa zona gentilmente sempre ci fermiamo per qualche minuto perché abbiamo preparato una sorpresa per voi vi dico solamente una cosa di guardare verso quel muro perché proietteremo qualcosa va bene ok ci siamo io penso che si debba fare anche un po' di spazio lì ragazzi dato che il video è da quella parte vi converrete spostarvi di là almeno vedete qualcosa altrimenti l'isba va bene ci siete allora state buoni così io vado velocemente di nuovo in console non fate un pochino di spazio grazie no posso entrare non posso uscire ma io posso entrare grazie grazie ritorniamo oppà padone una collaborazione a tutti quanti voi la chiediamo per qualche minuto perché come sempre facciamo il juiz abbiamo preparato ok ok allora